Siamo con il signor Elio vicino al ponte del Tesino sul lungomare di Grottambare, prossimo alla riapertura anche ai veicoli, sarà limitato invece il transito dei mezzi pesanti e da qualche giorno è stato riaperto il traffico a pedoni e biciclette. Chiediamo al signor Elio un pensiero riguardo a questa vicenda durata mesi. Sì, è una buona notizia che riapre, penso che si poteva fare un po' prima magari, specie per i pedoni, per le bici, si poteva fare qualcosa di veloce come una passarella o qualcos'altro, comunque è una buona notizia che riapre. Grazie.